Si è parlato di diritto allo studio nel confronto alla CGL alla presenza del deputato del PD ed ex presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e di Luciano D'Amico, candidato del centro-sinistra alle prossime regionali. Lo si è fatto davanti agli studenti e ai tanti giovani democratici anche per raccogliere le loro istanze. Un ambito decisivo nel quale bisogna fare di più in una regione nella quale spesso gli studenti lamentano l'assenza di regione e servizi. Zingaretti ha parlato anche dell'esperienza del Lazio dove in dieci anni e in due consigliature sono raddoppiate le borse di studio. Invece si possono fare tante cose, ad esempio ripristinare il diritto universale che chi ha diritto alla borsa di studio la deve ricevere e non avere i doni e i non beneficiari. Il diritto allo studio vuol dire permettere agli studenti e le studentesse di studiare con una casa, con i buoni libri. Abbiamo fatto addirittura il buono interconnessione a internet perché non tutti possono permettersi di essere connessi. Ripeto, le cose da fare sono tante ma quello che occorre è la coerenza tra quelle cose che si dicono in campagna elettorale e poi comportamenti e l'adesso non lo garantisce. Per Zingaretti, alla luce delle prossime elezioni, D'Amico è il candidato giusto. Secondo me è l'opportunità, è il candidato giusto D'Amico non per il PD o per il centrosinistra, è il candidato giusto per l'Abruzzo. Io da osservatore, ex presidente di regione, dico che stanno arrivando miliardi di euro, miliardi tantissimi. Tutte le regioni giustamente sono in competizione ma servono persone autorevoli per intercettarli. Del diritto allo studio D'Amico sa con la sua lunga esperienza accademica è uno che di questi temi può parlare, conosce tutto e la ricetta soprattutto dice per far andare meglio le cose. La prima azione da fare è con immediatezza rendere certi i finanziamenti di tutte le attività di assistenza agli studenti, ad iniziare dalle borse e cercare anche di erogare le borse non come un rimborso alcuni mesi dopo che le spese sono state sostenute ma come si fa, come buona pratica insegna negli altri paesi europei con erogazioni anche mensili e anticipando l'erogazione rispetto al sostenimento dei costi per i ragazzi. Poi bisogna con un orizzonte temporale molto più ampio ed esteso bisogna iniziare ad immaginare un progressivo spostamento dal diritto allo studio al welfare studentesco e cioè creare le condizioni che rendano lo studente, gli consentano di vivere con serenità, con tranquillità la sua esperienza formativa.